Si ferisce e inventa un furto per riconquistare l'ex fidanzata. È accaduto all'Aquila. Si è procurato delle ferite con un coltello per simulare di essere stato accoltellato in piena notte da due malviventi originali dall'est Europa che a suo dire lui aveva sorpreso a rubare nella casa della sua ex fidanzata, ma era solo un tentativo per riconquistarla. Poi troppe incongruenze nel racconto del giovane aquilano che aveva chiamato la polizia. Queste hanno insospettito gli investigatori che solo in tarda mattinata però quando il trentenne ammesso di Erset si è inventato tutto hanno fatto rientrare l'allarme. Per tutta la notte infatti la squadra mobile guidata dal nuovo dirigente Tommaso Niglio, rafforzata dalle volanti ed intesa con la procura della Repubblica aveva effettuato battute di caccia, chiamiamole così, per cercare due ladri armati. Il giovane poi nel fornire delle dichiarazioni spontanee ha confessato di aver riscenato il fatto di sangue per attirare l'interesse della sua ex che evidentemente aveva tentato così di riconquistare. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con una prognosi di 20 giorni per ferite a fianco ma sarà anche denunciato per simulazione di reato e procurato allarme.